Buongiorno. Buongiorno. Cerco Willem Lieben. Sì. È arrivato qualche giorno fa. Willem, ieri è morto. È ancora qui se vuole vederlo. No, no, non è necessario. Grazie. Io sono qui da 40 giorni. Non vedo l'ora di tornare. Passatevi. Dove sono? Qui dietro. Non vedo l'ora di tornare. Sveglia, ragazzi! In piedi! In piedi! Sveglia, ragazzi! Oh no! Cat di prima misschien...